Siamo in compagnia di Silvia, che è titolare del negozio Fantasia in via Vittorio Emanuele 72. Siamo all'inaugurazione, anzi in anteprima vediamo il suo negozio. Ti vogliamo chiedere, parlaci un po' di questa idea creativa, come vedo, che ti ha portato a raccogliere tutti questi oggetti di design e di un po' country direi anche. Sì, ci sono vari stili, c'è il country, c'è il provenzale, c'è lo shambi chic, questa è la parte più romantica del negozio. Il negozio si articola in vari stili, vari ambienti, suggerisce anche ambientazioni e energie differenti e nasce dalla volontà di creare qualcosa di differente rispetto a quello che c'era già sul territorio. Un po' perché Vordighera è una città piccola e quindi era anche controproducente e inutile fare qualcosa che c'era già. E dall'altra parte proprio perché io sono anche sempre un po' alla ricerca dell'originalità, della creatività, di tutto ciò che può essere artigianale, recupero, materiali vissuti. E visto che qui non c'era questo tipo di cose ho pensato che poteva essere bello dare anche alla comunità e non solo, sperando anche che continuino a venire i turisti, cose nuove, cose particolari, cose diverse, colorate, create e messe insieme con passione e con amore. Spero che questa cosa arrivi. Lo speriamo anche noi, ci sembra veramente molto interessante tutto questo. Hai fatto una ricerca a livello italiano, forse sei nata anche fuori per raccogliere tutta questa oggettistica. Guarda, mi sono concentrata su tendenzialmente il made in Italy e l'artigianato è, quindi questi inserti appunto che ho cercato di creare all'interno di marchi, un pochino di rappresentanza dei vari stili, effettivamente è quasi tutto artigianato artistico italiano. Tranne, non so, ad esempio queste lampade molto molto carine, a mio avviso fatte con le donnine, con i vestitini, tutte chiamate con un nome diverso che vengono dalla Grecia, però l'artigianato italiano mi è piaciuto molto, ne abbiamo ancora e perché non valorizzare? E anche del territorio, perché appunto collaboro con una signora che da molti, molti anni lavorava su Bordighera, molte cose vengono, molti oggetti vengono da Firenze, dalla parte centrale dell'Italia che da questo punto di vista è ancora molto attiva e noi italiani abbiamo un grandissimo estro, per cui perché non metterlo in evidenza? Sicuramente ci sono anche delle cose e degli oggetti e dei complementi d'arredo che arrivano, ad esempio questa parte qui, specializzata in boccali di birra, in complementi d'arredo per la tavola un po' particolari e divertenti, con questo mondo che ruota intorno al vino e alla birra, ovviamente vengono dalla Germania, esatto. Poi gli articoli per la casa più divertenti, più colorati, la parte vintage, degli inserti di antiquariato che io amo molto, originali, vengono da Parigi, sono andata per fiere, le fiere più importanti che ci sono all'interno di questo circuito di design, dell'arte del vivere e dell'abitare, ci sono a Parigi, Milano, Francoforte e poi ho fatto una ricerca mirata su internet, mesi e mesi di ricerche in siti di design, a cercare di trovare delle cose, delle suggestioni particolari e andando in giro mi sono assegnata tutto quello che vedevo e colpiva la mia fantasia, sperando che poi ovviamente ci sia una risposta da parte delle persone che verranno qui. Te lo auguriamo di cuore, comunque ci piace anche molto l'idea del Made in Italy al primo posto e anche del locale, dell'articinamento locale, che va sicuramente valorizzato. Benissimo, ringraziamo ancora Silvia e ricordiamo l'inaugurazione che ci sarà oggi pomeriggio, vero? Sì, 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 dalle 18 fino alle 21, 21 e 30, bellissimo rinfresco, colorato, fiori, decori, stiamo vicino a Pasqua, quindi insomma tutto anche l'insegna della primavera, coniglietti, fiori, colore, amore, si spera che tutto vada bene.